Eri Divisie Eri Divisie, vincono Ajax e Feyenoord, respira il Dey Nag. Torna al successo il Vitesse Poche sorprese, in questo sabato di Eri Divisie. I quattro anticipi del quarto turno del campionato più tecnico d'Olanda, infatti, non regalano botti inaspettati, confermando quanto visto nelle prime uscite stagionali. . Sempre capolista e sempre più squadra da battere, non sembra fermarsi il cammino del Feyenoord Rotterdam, che pur senza cui non accenna a mollare di un centimetro, schiantando il malcapitato Eracle e Salmelo per 4-2. . Nonostante il pubblico avverso, i campioni in carica mettono il turbi già nel primo tempo, trascinati da Berguis e Boetius, che in 11 minuti confezionano tre reti. . Nella ripresa, i bianconeri salgono in cattedra, accorciando inutilmente grazie ai gol di Niemeijer. Nel finale, c'è spazio anche per un rigore di Larsson. . Sontuoso 0-3 anche per il Vitesse, che si riprende dalla sconfitta dell'ultima giornata battendo senza troppi problemi il povero ex-Celsior. . Gli indomabili gialloneri, in rete grazie a Castagnois, imprimono il proprio marchio al match nella ripresa, guidati dall'inossidabile Tim Matase e dal tristargato Linssen. . Importante, poi, la riscossa del Den Haag, che conquista i primi tre punti stagionali superando un Willem II in piena crisi ed ancora a secco di punti. . Nella giornata delle doppiette, Lado apre e chiude i giochi con El Cajati, che trascina i suoi anche dopo il momentaneo 1-1 di Son. . . Prevedibile, infine, il successo casalingo dell'Ajax, che senza troppi patemi d'animo si sbarazza del pec-wole, comunque positivo. Sostenuto dai calorosi tifosi della Joan Cruy Farina, i lanceri aprono le danze con un telar, controllando per tutto il primo tempo. . . . Nella ripresa, nonostante il rigore fallito da Ziyech, i padroni di casa riprendono il discorso interrotto nella prima frazione, facendo 2-0 proprio grazie al proprio trequartista e chiudendo definitivamente i conti con la seconda rete personale di Jan Klaasun-Telar. . . . . . . . . . Il sabato, 18.30 finale Heracles 2-4 Feyenoord 18.30 finale Willem 2-1-2 Daynaad 20.45 finale Ajax 3-0 Wall 20.45 finale Excelsior 0-3 Vitesse.